Una domanda per il segretario generale di Asfor. Sappiamo che è sempre molto attento al tema dei giovani. Che cosa stamane per i giovani è emerso dai lavori della giornata della formazione manageriale? Sicuramente il valore delle competenze, il valore di credere in un grande progetto per poter costruire quotidianamente il proprio futuro. Io penso che in questo momento ai giovani italiani occorre dare una fortissima iniezione di fiducia perché sono troppo presi da comunicazioni che non danno a loro una visione di un futuro possibile. Allora cosa deve fare la formazione manageriale? La formazione manageriale deve entrare nella loro capacità di essere innovatori, deve dare degli strumenti, deve dare delle capacità, delle competenze, degli skill che loro possono utilizzare nella loro attività professionale e soprattutto deve garantire un'esperienza, un contatto col mondo delle imprese e una relazione con quello che è la globalizzazione dei mercati. Attraverso che cosa? Attraverso il fatto che dobbiamo sempre essere coscienti che il nostro DNA di italiani ci garantisce una fortissima identità e anche un'autorevolezza nel poter agire con grande capacità in questi mercati internazionali. La sfida è proprio quella, dare forza ai giovani e penso che il ruolo che Asfor ha sviluppato in questi anni attraverso il processo di accreditamento dei master che lo scorso anno ha festeggiato il 25esimo anniversario rappresenti un punto di riferimento, una linea guida per poter orientare i giovani nella scelta anche del loro futuro. Frequentare un master di qualità per loro deve rappresentare una grande occasione di apprendere sì competenze, apprendere sì capacità manageriali ma soprattutto anche fare un'esperienza di vita e per questo noi siamo il ponte tra l'università, i giovani e il mondo del lavoro. Passare attraverso un master accreditato di Asfor rappresenta una spinta per crearsi un futuro.